Ed eccoci qui, benvenuti a un nuovo video. Ci voleva finalmente un video dove tornavo a parlare di Sydney, ma ora questa volta torno a parlare in modo negativo di Sydney, cosa che non mi avete mai sentito fare. Quella che vedete davanti a voi non è un semplice edificio, è una chiesa di Scientology. Scientology, per chi non lo sapesse, è una specie di religione e io con questo video voglio raccontarvi la mia esperienza di questa specie di chiesa. Allora, andiamo con ordine. Cosa è Scientology? È una specie di religione, New Age, senza Dio ovviamente, dove il Dio proprio, il Dio, siamo noi stessi. Una specie di nuovo umanissimo. Voglio raccontarvi la mia esperienza che ho avuto con questa specie di religione perché ci sono stato coinvolto da quando sono stato qui a Sydney, cosa che nessuno sa. Adesso vi voglio spiegare quello che è successo praticamente. Stavo camminando un giorno e praticamente mi trovo davanti a un edificio, non questo, un'altra sede, un'altra chiesa si può dire. E leggo fuori test dello stress gratuito per tutti. Io faccio, entro, faccio questo stress così per vedere, perché sapevo cos'era Scientology in realtà, ma non sapevo bene cos'era Scientology. Lo sapevo per sentito dire, va, diciamo così. Era praticamente, ricordavo, quella specie di religione dove c'è anche, se non mi sbaglio, Tom Cruise che è sponsor di questa religione, dove si diceva, se vi ricordate, che il figlio di John Travolta, John Travolta stesso credente in questa religione, il figlio fu ucciso da questa religione. Cioè, morì, non mi ricordo bene, però mi ricordo che la famiglia Travolta era coinvolta in questa cosa. Entro in questo edificio, faccio questo test dello stress gratuito, e comunque ci sono domande tipo se sei felice nella vita, oppure domande tipo come ti senti con gli altri. Una domanda, mi ricordo, cioè, hai paura delle delusioni? Hai paura degli abbandoni? Cioè, tu là cosa vuoi rispondere? Io scrivo il normale che scrivo sì, ho paura degli abbandoni. Vabbè, ma tralasciando certe domande che erano proprio ridicole, tipo sei una persona pulita, sei una persona che si ritiene intelligente, queste cose qua. Allora, una volta ho risposto a tutte le domande, io do il test, loro due secondi controllano, mettono in una specie di computer, puoi entrare in una stanza, io intanto tutto in una saletta che aspetto con della musica strana, new age, un video, una specie di film dove vengono elencate tutti i comandamenti di questa religione. Sono praticamente comandamenti, non sono quelli che potete pensare come stanno nella Bibbia, ma comandamenti tipo, alcuni sì, sono simili, tipo non rubare, non fare del male al prossimo, prenditi cura della tua persona, cerca di migliorarti sempre, non fermarti mai, ecco queste cose qua, con degli attori anche abbastanza famosi che sponsorizzavano questa cosa. Quando mi porta il foglio, la signora mi dice, tutto in inglese, io parlo inglese, tutto in inglese mi dice, guarda, da te risulta che tu sei una persona infelice, triste, che ha bisogno assolutamente, assolutamente di Scientology per risolvere i tuoi problemi di vita. e io dico, ok, va bene, aiutatemi. Loro, sì, ok, devi darci 50 dollari per questo libro, perché devi partecipare a un corso, e il libro è una specie di corso che dovevo frequentare almeno una volta a settimana. Io gli dico, guarda, anche se volessi fare il corso, io non sono un cittadino australiano, cioè io tornerò in Italia, quindi non potrò completare il corso, quindi saranno soldi buttati. Lei dice, no, no, io ti metterò in contatto con la più vicina chiesa di Scientology che si trova in Italia. E io non ci credevo che esistesse in Italia, cioè, pensavo che esistesse, però ora ho avuto le conferme, in Italia, anche a Napoli si trova, in provincia di Avellino, e mi sono fatto un po' di ricerche, la prima chiesa di Scientology è nata a Milano. Comunque sia, niente, andai a vedere questa cosa. Quello che voglio criticare in questo video non è, magari, chi crede, chi non ci crede. Io vi sto raccontando la mia esperienza. La signora, con tutta l'arroganza, perché non è stata affatto gentile, non me ne voleva fare andare. Io ci ho messo un'ora per farle capire che no, non volevo spendere 50 dollari per iscrivermi a questo corso, perché poi, una volta che si finiva questo corso, dovevo spendere 150 per fare un altro corso, per salire di livello, praticamente, per salire. Cioè, se voi guardate i simboli di questa chiesa, di questa chiesa, cioè, sembra quasi una massomeria, o peggio. Non lo so, ci sono triangoli, cerchi, comunque, niente, il problema è che, comunque, voglio finire presto questo video, perché la gente mi sta guardando, non voglio che, praticamente, possano succedere problemi. Comunque, che è successo? Io, niente, ci metto più di un'ora per farle capire, no, non voglio partecipare a questo programma. Lei è tutta incazzata, dice, no, tu ora devi pagare, trova un modo per pagare, trova un modo per pagare. Io, io ho detto la scusa, no, guarda, io non ho soldi, non ho i soldi appresso, anche se ce li avevo. E no, trova un modo, trova un modo, trova un modo per pagare, perché tu puoi pagare. Cioè, ma che cosa significa? Lei disse, no, non c'è una carta di credito, no, lo lasciano a casa. E allora non c'è i soldi appresso, sì, ho 10 dollari, però gli altri soldi c'erano a casa. Lei è tutta incazzata. Ah, e allora vai a casa, prendi i soldi e torna qui, ora. Ho detto, ma hai bisogno di aiuto? Io gli ho detto, guarda, se ho davvero bisogno di aiuto, perché pretendete soldi se siete una religione? Questi non sono una religione, questi sono dei truffatori, statenevene alla larga, perché? Perché io ho letto online, c'è il sito internazionale, anche in italiano, cioè basta scrivere Scientology su internet, dove ci stanno tanti filmati, regole, controregole, e i luoghi dove si trova Scientology in Italia, si trovano in tutte le regioni, state sicuri perché è una cosa che si sta diffondendo in modo virale in tutto il mondo. Io vi consiglio di stare alla larga da questi truffatori, perché se dovete credere in qualcosa, credete a una religione ufficiale, ufficiale qualsiasi esso sia, anche se sia l'Induismo, il Cristianesimo, ma non credete a Scientology, questi qui si pigliano solo i soldi, vero miglioramento sta in noi stessi, non sta in altre persone, dobbiamo fare il corso, queste cose qua. Il vero miglioramento è credere in noi stessi, soprattutto non abbatterci mai, poi se tu ci credi, se tu sei per caso fra i miei iscritti o qualcuno che ho avuto a che fare con Scientology, ma io, se vi ricordate in un mio vecchio video, c'era quel ragazzo che intervistai, Luca, anche lui disse, stava a Milano e volevano a tutti i costi far entrare una signora, e quindi anche lui ebbe un'esperienza a video, un'esperienza negativa con questa Scientology, la religione del sapere, la religione dell'umanesimo, il nuovo umanesimo, statevene alla larga, state alla larga da questa cosa, è una cosa non sicura, state assolutamente alla larga, vi prego, perché questa qui, questi sono i truffatori del nuovo millennio, ma non voglio esagerare, però, vedendo come si sta diffondendo questa religione, quando la gente ci crede e poi le abbandona, è una mafia legalizzata per prendersi soldi, punto, basta, è tutto questo, cioè, guardate qua, sì, magari uno ci crede, no? Guarda là, guarda, adesso ti faccio vedere, guarda là, uno ci crede, cioè guardate l'edificio com'è, mi sembra una cosa, tra il massonico e, buono, lo so, cioè, guardate là i simboli che ci sono, i Scientology, molti dicono che hanno avuto miglioramenti, queste cose qua, ma io non ci credo, cioè, se vedete i video che loro trasmettono, sono davvero dei video stilza cervelli, e, niente, io sto ora, devo andare al lavoro, sto con l'iPod per strada, non ho un, non è un video organizzato, questo qui, non, assolutamente, voglio andare via da Scientology, perché questo qui lo vedo tutti i giorni quando devo andare al lavoro, e, niente, io vi consiglio di stare assolutamente alla larga da Scientology, cioè, lei voleva mettermi in contatto con quelli là di Napoli, così continuavo il corso in Italia, continuando a pagare in euro poi, giustamente, cioè, ma se ne andassero a cagare, sinceramente, perché questi si pigliano solo i soldi, una persona che vuole aiutarti, a parte che non ti chiede soldi, ma i veri eroi che aiutano, sono quelli che sono in silenzio, secondo me, quelli che, e poi lei, ah, poi un'altra cosa più importante, lei disse, sì, noi abbiamo una brutta fama, ma cosa vuoi che succeda? Quando uno fa del bene, è logico che il mondo vuole distruggerti, cioè, ma chi crede di essere Gesù Cristo? Io non lo so. Comunque, niente, ragazzi, stare alla larga da Scientology, la mia è stata una brutta esperienza, perché voleva assolutamente farmi sganciare, non ho visto un aiuto sincero, ho visto semplicemente il voler aprire il mio portafogli o il mio conto in banca, niente, con questo è tutto, ragazzi, e ci vediamo ad un prossimo video, by Sydney, ciao!